Emergenza abitativa, criticità sanitarie, bisogni di cibo, fragilità familiari e di minori. Quattro aree di intervento che traghettano la Caritas Diocesana di Pesaro nel periodo dell'Avvento presentando i dati di un 2021 che dopo l'impennata di accessi in Caritas del 2020 non ha fatto passi indietro negli ultimi 11 mesi. Noi l'anno scorso avevamo registrato un aumento degli accessi in Caritas del 40% e quest'anno siamo a riconfermare questo dato, ovvero purtroppo il dato non si è abbassato, non è ritornato agli anni precedenti e questa è la prima importante osservazione per analizzare un po' lo stato attuale. Un altro dato molto molto importante è che rispetto al 2019 gli interventi per l'emergenza abitativa per cui gli affitti, le bollette, tutto quello che può aiutare un pesarese a tenere stretta la sua residenza, la sua casa sono triplicati. Quindi il messaggio principale di quest'anno è che siamo di fronte a un'emergenza abitativa di quella che è la classe media, di quella che sono i nuclei familiari che spesso magari hanno anche un lavoro all'interno della famiglia ma che per una serie di contingenze non riescono a vivere una quotidianità in maniera serena. Ti ripeto, sono triplicati gli interventi dal 2019 al 2021. I progetti per quest'anno appunto sono legati a questa emergenza per cui chiediamo aiuto alla città per sostenere le persone che sono in difficoltà abitativa o che non hanno proprio una dimora. Noi abbiamo pagato qualcosa come 8.000 notti durante tutto l'anno 2021 a persone che si sono ritrovate in strada ad affrontare tra l'altro questo momento molto delicato. Collegato a questo un'emergenza che sta sempre più montando è l'emergenza sanitaria, non collegata al Covid ma collegata al fatto che le persone che perdono la residenza non hanno più neanche l'accesso alle cure di base, al medico di base, al sistema sanitario e quindi stanno facendo sempre più accessi all'interno del nostro ambulatorio medico. Chiaramente l'altro progetto di riferimento della Caritas è quello della Mensa. Noi abbiamo qualcosa come 16.000 pasti l'anno di persone che vivono stanziali sul nostro territorio anche perché la pandemia ha diminuito la mobilità e lo spostamenti ma che hanno necessità quotidiana di avere un pasto completo. Nel nostro territorio ci sono circa 300 persone che non hanno un pasto. Questo ce lo dobbiamo raccontare perché quando poi ci sediamo a tavola questo cambia la prospettiva di quello che viviamo. L'ultimo progetto è quello di tutela verso i minori, verso le famiglie che hanno dei minorenni all'interno. Noi abbiamo circa 1130 famiglie in tutta la diocesi che si rivolgono a Caritas e all'interno di questa famiglia c'è almeno un minore per cui possiamo immaginare insieme tutto quello che è necessario fare per sostenere queste persone, questi nuclei familiari. Di fronte ad un impoverimento strutturale delle famiglie e delle classi medie allora Caritas lancia la campagna di avvento Diamoci una mano, un'attenzione e un amore verso il prossimo che si può tradurre in una raccolta fondi attraverso donazioni bancarie per sostenere i tanti progetti caritatevoli. Darsi una mano significa favorire processi di incontro con le persone per cui darsi una mano significa fare in modo che come perché l'avvento ci prepara il Natale e il Natale sappiamo che cosa è successo il Signore ci è venuto incontro, ha assunto umanità per poterla abbracciare, per poter essere presente anche nelle fragilità nella sofferenza, nella precarietà a volte della vita presente nelle persone.